Palla in area di rigore, prova a spazzare ma male qui Se la cavano, la gioca profonda, l'idea non è male Controlla il lancio, vediamo cosa in mente L'azione non è ancora finita Eccolo il gol, sono tre adesso le reti da recuperare per gli avversari Replay del gol che ci permette di apprezzare meglio il lancio o a scavalcare la difesa Un gol facile facile ma bisognava essere al posto giusto, al momento giusto